Salve a tutti i ragazzi, sono Black e Giazzetti e sono qui su un'idea di capta di rigoro, dove faremo queste nuove batterie che riguarderà questo... Superhostile, una delle tante mappe di Vex. E' un tizio che fa queste mappe di Superhostile che sono... Regole standard, trova e completa il monumento di Vittoria, gioca almeno in pace dove siamo in normale, non lasciare i confini della mappa, trova la lana nelle ceste, non usare pecore, colori oppure... trova dei... dei... scusa... dei... umama, dei spider diciamo, non mi viene un nome in italiano, sopravvivi in qualsiasi modo puoi pensare di farlo. Allora, aroma... ce la dividiamo. Cana da pesca... E il resto è due. Qua c'è un'altra cassa, cosa c'è? Barche. Aspetta, prendi le due che sono rimaste lì. Ok, ho una bussola, vediamo dove conduce... Qua. Ok, conduce qua. Ok, niente, questo è lo spawn, non c'è niente di particolare. La dobbiamo trovare. La dobbiamo trovare. Ah, dobbiamo trovare anche questa? Sì. Ok, allora iniziamo. Sì. Allora, vediamo cosa c'è qua sotto. Allora, che ne dici di iniziare a prendere qualche parte di legno? Sì, sì. Oh, qua ho. Pane e strumenti d'oro. C'è qua sotto. C'è una cesta. Prendi anche la cesta per dire che no? Sì, così almeno ce l'abbiamo. Ah. Ah. Non mi sa d'ora. Cos'è? Sì. per me si spera insomma al terzo tentativo come ho fatto che non c'è io prendo un po' di legna ok bene mamma io sto per a negare oh salve allora da dove vedo che c'è un punto oh giusto è vero oh si vede una struttura di dietro sotto quell'isola andiamo a vedere io prima vado a vedere dove vengo a vedere vengo a vedere ma tipo voi ti dovrei buttare una galla o no ah non serve cioè non è necessario cosa dice cosa dice arriva a vedere arriva a vedere ti dico qua la sabbia come viene tenuta in piedi non so cosa fare mi laggia di sotto la riesce di pulire o no aspetta ti ragiongo e scendiamo così e scendiamo così ah ho il piccone d'oro io non lo so i ragni si oh mamma iniziano a spawnare non abbiamo nemmeno una spada io so ok oh mamma sono caduto ok ok ho rotto lo spawner ma un attimo che si è colato di sotto quindi recupera anche un po' di vita ma mi serve una spada sì nel fatto che ci dovremmo creare una spada che è più potente quindi mi metto ma non dovremmo andare però quanto legna hai? ho detto una nave è morto un colpo e mi ha ucciso non me l'aspettavo non è finita la spada mannaggia altina arrivo io sto registrando mi sta venendo il dubbio un attimo che controllo ok sto registrando non si sa mai ah mi sa che quella spada sarà la mia se riesci ad ucciderlo eh certo è un po' semplice anche io non lo sai mi chiedo questa spada ha visto più con il segno di legno che avevo visto lotte oh mamma quanti ce ne sono altissimi ma ce l'hai una spada almeno? no ma dove? ma dove? non puoi sopravvivere con il segno dovremmo farci avere piccole di pietra eh però il pietra non ce n'è scaviamo sotto la pappia ce l'abbiamo adesso abbiamo perso tutto lì abbiamo perso anche un eeeh che bello e qui dove sono io? sto arrivando no ho solo uno di sabbia scegliere eeeh ritorniamo nello spot dai vieni ok eh vediamo eeeh dei cartus per un'altra inizia ok dai vieni è vero grande idea hai cartus non ce l'ho un po' però me ne andiamo dai vieni qua lo spot non ce l'ho adesso diciamo le porte quelle 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 vetro laggiù però non mi piace cosa c'è io invece sono proprio curioso di vedere cosa c'è io sono curioso però forse abbiamo iniziato avremmo dovuto iniziare con la mappa di allenamento si c'è una mappa giusto per si ok ho un po' di cartus vado all'assalto che fai? recupero il legno no mi sembrava di aver visto che avessi preso ah la cosa è ora come scendiamo? oh mamma oh mamma no è che ho rotto le mura e mi è caduta tutta la sabbia addosso no no e ce l'avevo detto e adesso cosa facciamo a fare? scaviamo non lo so e non lo so e non lo so ce la faremo sì sì ce la faremo i nostri eserci ci sono andati no ci sono 5 minuti sì dobbiamo scavare tutta la sabbia via le torce stai tranquillo sto scavando un buco a fianco no ma adesso ci sono andati non ce la faremo mai ce la faremo no è impossibile possiamo scavare tutta la sabbia perché tutta la sabbia perché io ho scavato l'inverno quando rientrai sono già più sotto di te non serve basta è qua è il piano sì è qua di nuovo sì però pensavo fossero un po' più in basso no è l'aria o è il terreno no più in basso trovati ho provato anche il cactus hai preso la sabbia per piazzarli cactus occhio da dietro no da dietro se lasciassimo stare quella roba e noi cercassimo un'altra di cosa da fare ok ok